Ancora per quanto riguarda il tema di cambiamenti climatici, non prenderemo delle decisioni a questo vertice. Gli impegni politici, le conclusioni sono riviate al Consiglio europeo di dicembre, però anche qui stiamo lavorando per indirizzare questo tema, dobbiamo lavorare per la transizione energetica. Abbiamo obiettivi molto ambiziosi a livello di Unione europea, dobbiamo ridurre sino al 55% le emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto, assumendo come parametro le emissioni del 1990.